I had a very good marriage for about 20 years. After that something happened, I can't explain, but my husband started to abuse me and beaten me, threatened me, took all control over my life. He tried to kill me. It was so awful. Eva Britsvenson è in politica dagli anni 70, quindi un ruolo pubblico in Svezia, ma questo non le ha impedito di subire dentro le mura domestiche lo stesso calvario di molte donne per le quali oggi si batte. Si parlava con lui come, che non sapeva cosa stia facendo, non sapeva a casa, non sapeva a lavorare, non sapeva a lavorare. Grazie a tutti.